Buongiorno a tutti, la sua buona Messa, come sapete, sarà alle ore 1, sì però in previsione della Messa facciamo un porere concertino di una ventiniera, con Giacomo Orlandi. Iniziamo i festeggiamenti in onore del sessantesimo di Don Origi. Cominciamo questo breve concerto con una celebrareta Ave Maria, quella di Charles Boulogne. Il compositori francese diventò con questa toccante melodia elaborando il noto primo preludio del primo volume del prezzemolo intemperato di Palfe. Prego. Grazie. 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 Torniamo ora una danza di sol minore tratto da uno dei concerti di Vivanti. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della vita. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia. La tonalità minore non incluge alla malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malinconia ma ha una tinta meditazione sui casi della malincon Grazie a tutti. 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 Grazie.